Che cosa avreste fatto al posto di Donatella? Che cosa fareste se come Donatella vi trovaste a un tratto padrone, anche se per pochi giorni, di un ricchissimo guardaroba, di una villa sontuosa, di una lussuosa automobile? A Donatella, come per incanto, si dischiusero le porte di un mondo che era vivo nei suoi sogni, ma che aveva sempre creduto lontano, irraggiungibile, quasi irreale. Avreste rinunciato o vi sareste lasciate tentare a farvi credere ciò che non siete? Donatella dapprima esitò, ma poi disse sì al destino. E da quel momento cominciò la sua indimenticabile avventura. Non è stata mai a Roma? Come no? Ci sono nata. Ma no. Allora manca da molto tempo. E in vacanza o rimane? In vacanza. Tra pochi giorni tutto sarà finito. Allora è vero? Ma è vero che cosa? Muttaci pure te. Au, e chi è questo? E tu cosa fai lì in mezzo così vestita? E il vestito chi te l'ha dato? Lo stesso che te l'ha dato la sottopesta del cane? Vedi Donatella, questa è una favola per persone grandi insomma. Cioè che gli uomini sono come i rubi, ecco. Non tutti papà, per esempio quello di stasera è stato tanto carino. Lo so, gli uomini ci provano, ma poi fanno quello che vogliamo noi. Non ti preoccupare papà, io li conosco bene, a me, a me, non me lo fanno. Dicalo, dicalo, tanto non corre il peligro di sposarla. Davvero? Più di qualsiasi altra donna al mondo. Merita su un bacio. No Maurizio, non posso. Perché non sono la ragazza che a lei crede, quella che ha sempre aspettato. Avrei dovuto dirglielo prima, lo so, ma era così bello. E invece te sei innamorata di un altro, di la verità. Ma papà, a moto ci metti pure te, non sono innamorata di nessuno io, di nessuno, hai capito? Vabbè, di nessuno, allora non manco la guida. Ma perché mi rispondi così? Tu che ha fatto bene andarsene? Io non ho fatto niente di male, niente. Io non ho fatto niente. Lo so, state... Grazie a tutti.